Dopo la recente presa di posizione sui tagli al servizio CUP dell'ASL Toscana Sud-Est, la CISL Arezzo torna a far sentire la propria voce sul tema, chiedendo un intervento fattivo anche alle altre istituzioni. Il taglio comunicato dall'ASL avrebbe decorrenza dal 1 di agosto. L'ASL Sud-Est ha deciso di tagliare una serie di posti di lavoro, quindi al CUP e al front office per far rientrare quello che è un piano di recupero di risorse. Per quanto ci riguarda questa è una scelta scelerata, perché praticamente si cerca di ripianare un debito sulle spalle dei lavoratori, di lavoratori che sono in appalto e soprattutto sui servizi, sulla qualità dei servizi, perché riteniamo che CUP e front office siano un elemento importante e fondamentale, addirittura da migliorare e da implementare. Per quanto ci riguarda, la nostra posizione era addirittura quella di re-internalizzare questi servizi all'interno della ASL, pian piano inserendo questi lavoratori all'interno proprio con corsi pubblici, perché riteniamo che è vero che l'accoglienza rispetto alle persone che hanno necessità di incontrare l'ASL, di fare visite, sia importantissimo, un elemento importantissimo. Pensiamo inoltre che l'ASL poteva cercare di trovare altri luoghi dove fare risparmio, ad esempio noi poniamo la questione degli affitti, gli affitti che sono stati utilizzati nell'ultimo periodo anche per il nuovo centro direzionale. È vero ci sono i lavori in altri palazzi, ma forse si poteva fare di più e meglio. Quante persone saranno coinvolte in questi tagli? In questo momento non abbiamo ancora una quantità ufficiale perché il taglio è un taglio rispetto alle risorse che l'azienda mette in campo per questo appalto, però abbiamo fatto un conteggio che per Arezzo all'incirca in due anni dovrebbero essere tagliati una ventina di posti, posti di lavoro di persone che comunque spesso praticano un part-time involontario perché questa è una tipologia di lavoro piuttosto fragile essendo lavoro in appalto, in cooperativa e quindi un particolare tipo di lavoro che noi tuteliamo e un particolare tipo di servizio che secondo noi alla cittadinanza sarà ancora molto utile. Voi avete avuto anche un confronto con la direzione sanitaria, ci sono state risposte? Con la direzione sanitaria sono tuttora in corso una serie di incontri sia da parte delle organizzazioni sindacali confederali come la nostra che rappresentano i servizi e non solo i lavoratori ma anche con chi rappresenta i lavoratori. In questo momento c'è da parte dell'azienda una chiusura totale e una voglia di partire entro il primo agosto. Per noi queste sono date assolutamente assurde perché in un percorso eventuale di razionalizzazione deve essere fatto in più tempo per permettere di trovare soluzioni per i lavoratori ma anche di trovare soluzioni per le persone che hanno necessità di quel servizio e di quell'accoglienza.